Come testo introduttivo, è in Romani, capitolo 14, 15, sì, 15, il versetto 4. Paolo scrive, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Amen. E adesso do la parola a Daniele, che credo non abbia bisogno di presentazioni, è stato pastore per diversi anni qui da noi, e credo che sia la persona che ha ricoperto i più incarichi all'Unione di qualunque altro. Ha fatto il direttore dei giovani, il segretario di Unione, il presidente, eccetera, eccetera. Attualmente sei responsabile del campo dei pastori. Troppe cose, non le ricordo tutte. Bene, ascoltiamo Daniele. Grazie, buon sabato a tutti, ben ritrovati. Buon sabato a tutti, anche in formalità Covid. Come state? Ci stiamo abituando? Bene. L'importante è non abituarsi, non rassegnarsi, ma imparare a convivere con questa modalità, perché potrebbe avere dei tempi più lunghi di quello che noi ci auspichiamo. D'altronde, i tempi sono quelli che sono le difficoltà. Noi possiamo anche, grazie all'Evangelo, alla parola del Signore, prepararci per queste nella fede del Signore. Abbiamo appena terminato un periodo di festività particolari. E io questa mattina vorrei ritornare su un testo, su un episodio, che è racchiuso in questo momento particolare dell'anno, che, secondo la Bibbia, non corrisponde a questo momento del periodo a livello cronologico, ma che comunque ha un significato, ha un senso. E se il testo è lì, se Matteo, se Luca, se Marco, se Giovanni ci riportano questi elementi, questi avvenimenti, ha un senso anche per me. Ma non soltanto per quello che mi ricorda, ma per quello che mi vuole dire oggi. Ecco perché l'Apostolo Paolo, quando parla, dice che quello che fu scritto per là dietro, e sicuramente Paolo si riferiva in particolare all'Antico Testamento, è già scritto per nostro maestramento, per conservare la speranza e per acquisire anche la pazienza. Questa mattina vorrei rileggere con voi dall'Evangelo di Matteo, il capitolo 2, che ci riporta l'arrivo e il racconto dei magi. Leggiamo questo episodio perché sicuramente ha qualcosa da dirmi oggi, a me, a noi come comunità, come credenti. Matteo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Leggiamo insieme questo brano. Gesù era nato in Betlemme, di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta». «E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei affatto la minima fra le città principali di Giudea, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a Betlemme disse loro «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi, dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. «Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia, entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, e prostrati si lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via». Perché soltanto Matteo ci racconta e ci riporta questo episodio? Perché non lo fa, per esempio, Luca? Perché non lo fa Giovanni? Ci sono delle intenzioni ben chiare in Matteo che scrive il suo Evangelio a dei giudei diventati cristiani. A dei giudei che credono ancora che l'essere giudei sia qualcosa di esclusivo. Nessun altro può conoscere Dio se non i giudei. E Dio non può rivelarsi diversamente all'uomo se non tramite i giudei. E in questo episodio Matteo vuole fare capire ai giudei, diventati cristiani, anche ai giudei che ancora sono alla ricerca del Messia, che le prime persone che hanno avuto il privilegio di conoscere, di annunciare che il Messia era nato non sono i sacerdoti, non sono i pastori in chiave moderna, non sono i farisei, non sono i sadducei, non è il re giudeo, ma sono dei pagani, dei gentili, usando un termine improprio, pagani è sicuramente un termine improprio. Sono delle persone che hanno studiato, che conoscono le profezie dell'Antico Testamento, in particolare quella di numeri del profeta Bala, la sua lavai dice che conoscevano forse anche le profezie di Daniele, e che mossi da questo bisogno di ricerca, da questo desiderio di conoscere quella stella dove porta, si muovono e fanno un lungo tragitto. Ecco allora che Matteo, nella sua intenzione chiara, teologica, vuole dire, attenzione, Dio non parla soltanto tramite di noi e di voi. Dio si rivela come vuole e quando vuole. Ma questa verità, forse è una verità che tocca anche a noi oggi. Vediamo adesso attraverso alcune immagini, ci sono almeno tre ragioni, tre lezioni che possiamo questa mattina imparare da questo episodio per noi oggi, oggi nel 2021. Possiamo quindi alla proiezione di qualche immagine che ci può sicuramente aiutare. Quindi il primo elemento importante che il testo ci presenta è il viaggio dei magi. Secondo molti commentatori, i magi venivano da Ur dei Caldei, potevano venire dalla Mesopotamia, secondo alcuni altri, potevano venire forse dalla parte alta dell'Arabia Saudita, dal regno dei Nabatei, la cui capitale era Petra. Non so chi di voi ha visto questa bellissima città. Andiamo avanti. Giusto per darvi un'idea di questo, ancora avanti, di questa esperienza fatta, Petra era ai tempi, già sette secoli prima di Cristo, e ancora ai tempi di Cristo, era una città importantissimo, di snodo fra l'Oriente, e penso all'India, penso a tutta quella zona orientale, e l'Occidente, compreso l'Impero Romano e il Mar Mediterraneo. Questa è la strada, è il sentiero, è la mulattiera che porta Petra. Andiamo avanti. Vedete, nel fondo, qui abbiamo delle persone reali, e in fondo abbiamo questa prospettiva bozzata del Tempio Principale, avanti ancora, che si vedeva entrando in questa zona che è straordinaria. National Geographic, proprio pochi giorni fa, ha pubblicato un numero interamente dedicato su Petra. A Petra, ho avuto occasione di visitare Petra, questo rio dei Nabatei, c'è un museo, che viene, si parla chiaramente di che, ai tempi dei Nabatei, il valore sociale delle donne era quasi pari a quello dell'uomo. Ancora oggi, molte volte, in certe zone del mondo, questo non sovviene. Ebbene, sette secoli prima di Cristo, il rio dei Nabatei aveva un codice civile che dava senso e valore al ruolo della donna nella società, nella cultura, nell'istruzione. Ecco, quindi, i Magi potevano venire da questa zona anche e comunque Petra, a Petra si vendeva oro, incenso e mirra in maniera molto, molto evidente. Ci sono dei documenti storici, archeologici, che dimostrano che Petra era appunto lo snodo commerciale fra l'Oriente e l'Occidente. Quindi, passiamo al prossimo. Ecco, questa è la porta di Damasco a Gerusalemme, ricostruita in parte e sicuramente, dando a Oriente, i Magi sono entrati a Gerusalemme da questa parte della città. Il viaggio di questi uomini è un'esperienza straordinaria. Questi uomini hanno viaggiato di notte per poter vedere la stella, si sono riposati sicuramente di giorno e hanno intrapreso un percorso di ricerca straordinario. Un mese? Due mesi? Due settimane? Non lo sappiamo. Però, quello che ci deve sorprendere è l'idea del viaggio, di questa ricerca per poter soddisfare la cosiddetta di quella stella che li accompagnava di notte. Ed entrando in questa città quasi alla fine del viaggio i magi pensavano di incontrare in questa città qualcosa di particolare. Così come l'Eunuco di Atti 8 sperava di trovare a Gerusalemme la rivelazione di quello che diceva Isia 53 nel deserto con il diacono Filippo capirà chi era il servo di Isia 53 questi magi credevano speravano erano convinti che avrebbero incontrato una città che festeggiava perché il Messia era nato. Perché i magi non chiedono non chiedono è nato il Messia chiedono dove è nato il Messia. Notate la domanda che questi uomini fanno. Andiamo alla prossima passiamo all'altra ok ecco a Gerusalemme quindi arriva il diverso i magi sono gli estranei sono i pagani sono gli incirconcisi e dice il testo al versetto 3 udito questo il re erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui noi ci sorprendiamo davanti a questa affermazione ma anche noi spesso siamo turbati quando c'è qualche verità che scardina i nostri paradigmi le nostre certezze che ci mette in crisi che ci mette in subbuglio questa città con il re con i suoi consiglieri con tutto lo storo di sacerdoti di scrivi di farisei e con tutto il popolo dice Matteo è turbata e questi erano circoncisi figli di Abramo erano erano del popolo che aspettava il Messia secondo diverse profezie dell'Antico Testamento ma quell'annuncio quella domanda non è nato ma dov'è nato li mette in crisi perché scombustano le certezze e poi il diverso non è possibile Dio non può rivelarsi tramite il diverso magari uno di loro era anche di colore di colore scuro perché tutti siamo di colore e tutto questo turba preoccupa mette in crisi fortemente la loro concessione della religione della fede la concessione di Dio anche se hanno una buona conoscenza della profezia perché il re chiede informatevi e di lì a poche ore di lì a pochi giorni qualcuno dice sì è vero esiste esiste una una parola profetica di Michea che dice che a Betlemme 12 km da Gerusalemme oggi attaccata lì sarebbe nato il Messia la sorella White commentando questo passaggio nel libro La speranza dell'uomo dice quanto segue i sacerdoti i sacerdoti e gli anziani non erano così all'oscuro della nascita del Messia come volevano far credere a Gerusalemme era corsa la voce della visita degli angeli ai pastori ma i rabbini non avevano ritenuto tale notizia degna di fede avrebbero avrebbero voluto avrebbero potuto trovare Gesù e condurre al suo luogo di nascita i magi invece furono questi ad attirare l'attenzione dei rabbini sulla nascita del Messia dov'è il re dei giudei che è nato essi chiesero poiché noi abbiamo veduto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo l'orgoglio e l'invidia impedirono alla luce di brillare i sacerdoti e i rabbini pensavano che prestando fede alle notizie portate dai pastori e dai magi si sarebbero messi in una posizione difficile e il popolo non li avrebbe più considerati solo interpreti della verità divine per loro sarebbe stata un'umiliazione troppo grande lasciarsi istruire da coloro che definivano pagani non poteva accadere dicevano che Dio li trascorasse per rivelare i suoi piani a dei pastori ignoranti e a dei gentili incirconcisi il diverso il diverso che ci scombussola il diverso che ci destabilizza il diverso che crea nuovi equilibri succede oggi come è successo a quei tempi dice il testo tutta Gerusalemme fu turbata con lui e noi viviamo in un momento di grande turbamento a parte la pandemia ci sono nel mondo in questo momento altre situazioni forse un poco offuscate dalla pandemia dimenticate che sono ancora situazioni molto gravi molto delicate che turbano il genere umano che ci preoccupano anche noi credenti così come Gerusalemme davanti a questa notizia dove è nato dove è nato non sei nato dove è nato dove si trova il re il messia che è nato e questo è il secondo elemento il diverso che crea intrusione e anche noi spesso fratelli e sorelle abbiamo difficoltà ad accogliere il diverso quello che viene da un'altra realtà storica economica sociale politica anche se della stessa fede ecco Matteo vuole ricordare ai giudei del primo secolo cristiani e anche noi oggi che il signore sceglie vie per parlare per rivelarsi che a noi possano sembrare molto strane andiamo al prossimo elemento vai ecco Gerusalemme era conoscenza della professia di Michea conosceva bene questo passaggio e tu Betlemme terra di Giuda non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che passerà il mio popolo Israele esiste la conoscenza della parola ma manca la convinzione della verità della storicità di quella parola quel popolo conosceva bene la profezia le profezie e noi ventisti ci vantiamo di avere una buona conoscenza delle profezie noi siamo nati su un presupposto anche scatologico profetico e di questo giustamente ce ne vantiamo ma attenzione perché la conoscenza potrebbe tradire la nostra reale convinzione ancora meglio la nostra reale conversione di quelle verità che le profezie contengono e per andare verso la conclusione andiamo all'ultimo elemento che sicuramente andiamo avanti che sicuramente credo sia interessante ecco torniamo al testo quando arrivano a Gerusalemme la stella scompare quando ripartono da Gerusalemme la stella riappare interessante c'è il buio a Gerusalemme c'è il buio spirituale non c'è luce a Gerusalemme c'è soltanto bandoria gestione del potere c'è soltanto ora un turbamento causato da persone strane straniere maldestre ma quando la stella scompare è indicativo che Matteo evidenzia questo aspetto la stella li lascia a Gerusalemme e li riprende quando ripartono da Gerusalemme ogni esperienza spirituale spesso si confronta con il buio con le tenebre perché nel buio che immagiano visto quella stella hanno capito che era un evento particolare ed è nel buio che anche noi possiamo vedere la stella Cristo Gesù la stella del mattino se noi pensiamo di essere nella luce come quelli di Gerusalemme perché abbiamo questa conoscenza talvolta letterale del testo noi rimaniamo nel buio se noi siamo consapevoli di essere nel buio e cerchiamo orientamento dalla stella allora sì possiamo camminare dinanzi al Signore essi dunque udito il re versetto 9 partirono e la stella che avevano visto in oriente andava davanti a loro riappare la stella quando loro lasciano Gerusalemme e al versetto 10 dice Matteo quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia la certezza della guida la certezza di voler raggiungere la meta e di capire adesso che Gerusalemme non è la destinazione finale era una tappa era un pit stop per diverse ragioni perché lì pensavano di ricevere informazioni di ricevere di essere incoraggiati di essere accompagnati a Betlemme da qualcuno di loro invece nulla di tutto questo la città della conoscenza la città dove c'era il tempio che Erode Grande aveva fatto completare dopo quello di Zerobabele quella città resta ignara resta sorda quel messaggio della parola profetica e ripeto per l'ennesima volta la stella riappare appena i magi lasciano Gerusalemme questo è un messaggio che mi scuote per il Dio che mi sorprende per il Dio che fa qualcosa di particolare per il Dio che dice qualcosa di particolare e adesso andiamo verso la conclusione alla prossima diapositiva e leggiamo due testi il primo che ho già enunciato in seconda Pietro capitolo 1 versetto 19 che dice inoltre abbiamo le parole dei profeti degni di fiducia ancora più di prima e voi farete bene a considerarle con attenzione esse sono come una lampada che brilla in un luogo scuro fino a quando non comincerà il giorno e la stella del mattino illuminerà i vostri cuori Cristo Gesù è la stella del mattino è la nostra stella è colei che anche nel buio della vita di oggi ci guida infine stiamo studiando il libro del profeta Isaia e questa mattina vorrei leggere con voi una profezia di Isaia che credo metta metta l'indice su come Dio vuole rivelarsi a noi Isaia capitolo 19 e dice quanto segue Isaia 19 dal versetto 21 al versetto 25 il Signore si manifesterà agli egiziani e allora lo riconosceranno come Dio e lo onoreranno con sacrifici e offerte gli faranno promesse solenni e le adempiranno anche se il Signore punirà ancora poi li salverà quel giorno ci sarà una strada che unisce l'Egitto e la Siria e gli assiri in Egitto insieme serviranno il Signore quel giorno Israele sarà accanto all'Egitto e alla Siria sarà un segno che il Signore dell'universo benedice tutto il mondo dicendo siano benedetti l'Egitto popolo mio la Siria che io ho creato e Israele popolo che mi appartiene nell'economia biblica l'Egitto è il luogo della schiavitù è il luogo dell'idoletria e la Siria o Babilonia è il luogo dell'umiliazione della deportazione in questa profezia nonostante si debba ancora realizzare la deportazione Dio ha una visione che va ben oltre la comprensione che comunque c'era dell'Egitto e della Siria nemici il luogo del peccato Dio dice qui che siano benedetti l'Egitto popolo mio la Siria che io ho creato Israele popolo che mi appartiene qui viene enunciata c'è una parola profetica molto forte che va oltre i nostri schemi che supera anche alcuni altri schemi biblici ma c'è una profezia che mi dice che Dio così come ha fatto rivelandosi attraverso questi magi che Dio va ben oltre quello che io penso sia normale il nostro Dio è il Dio della creatività ed è il Dio che spesso ci lascia in fuorigioco mentre noi pensiamo di essere nel pieno delle regole questa profezia deve essere ancora compresa nella sua pienezza ma è uno sguardo interessante della visione che Dio ha del mondo di quel mondo che ha bisogno dell'amore di Dio anche attraverso la mia e la tua testimonianza di quel mondo che ha qualcosa da raccontarmi da dirmi da insegnarmi o da ricordarmi come hanno fatto i magi agli abitanti di Giosalemme dove è nato il Messia perché noi abbiamo seguito la sua stella e siamo venuti per adorarlo e per concludere questi magi che forse erano tre forse più di tre sono stati i primi dopo i pastori a riconoscere il fanciullo nella fragilità della sua essenza lì a Betlemme come Messia come Re e hanno donato a Gesù oro riconoscendo la sua messianicità incenso riconoscendo e anticipando l'annuncio della sua morte la mirra scusate la mirra e l'incenso riconoscendo il suo ruolo sacerdotale e di rial sacerdozio e questi doni che i magi hanno consegnato a Giuseppe sono stati il finanziamento che i pagani hanno fatto perché Gesù potesse essere accompagnato in fretta e furia in Egitto per essere salvato visto che Erode aveva già ordinato la strage di Betlemme ecco come Dio sceglie vie particolari sceglie uomini particolari sceglie situazioni particolari per ricordare ai giudei a coloro che conoscevano anche noi conosciamo che il piano di Dio va ben oltre va ben oltre quello che noi pensiamo di capire di conoscere e di comprendere ecco allora che questo episodio di Matteo dei Magi ha una valenza attuale particolarmente significativa anche per noi attenzione Dio potrebbe continuare a sorprenderci se noi restiamo addormentati e non siamo capaci non soltanto di reagire ma non non riusciamo a declinare a coniugare la nostra conoscenza con la nostra responsabilità con la nostra testimonianza attiva e con la nostra coerenza fino in fondo che il Signore ci aiuti a saper cogliere questo messaggio e a saper cogliere da questo testo quello che vuole dire a me oggi nel 2021 che Dio ti benedica che benedica coloro che ci hanno seguito tramite streaming la radio e facebook e che il Signore ci accompagni in questo anno appena cominciato ma che ancora davanti a noi sicuramente tante cose per poter camminare insieme a Lui Amen Daniele per questa esposizione interessante e ora invito prima della preghiera invito i nostri fratelli a mandare un altro canto mentre ci alzeremo in piedi a Grazie a tutti.